Oltre ai ragazzi qua sul palco, tutti quanti dal posto cantare le canzoni perché non è possibile non conoscere alcune canzoni, tante canzoni dei nomadi. Bene, io però lascerei subito lo spazio ai ragazzi che sono qui pronti per suonare, avremo modo di fare ringraziamenti, di ringraziare gli sponsor, eccetera. Allora partiamo subito con questa festa di fine anno, iniziamo con un brano che si intitola Il ballo della sedia ed è con questo ballo, con questo brano che prende il via la festa di chiusura di fine anno della scuola musicale Pergolesi, grazie. Un passo avanti, due lato, tre passi di ora e poi, nei piazzi, tutto il centro, proprio quello che vuoi. Perché non hai mai paura, tanto il cuore non ce l'hai, di non dire ciò che pensi, ma di far quello che vuoi. Allora va, che è il piano adesso, di tomarmi tu. Giri a destra e poi a sinistra, intorno fino a che, ti trovi la patrona, quella più adatta a te. Giri a destra e poi a sinistra, intorno fino a che, ti trovi la patrona, che non ce l'hai, di non dire ciò che vuoi. Giri a destra e poi a sinistra, intorno fino a che, ti trovi la patrona, che vuoi. Giri a destra e poi a sinistra, intorno fino a che, ti trovi la patrona, che vuoi. Giri a destra e poi a sinistra, intorno fino a che, ti trovi la patrona, che vuoi. Giri a destra e poi a sinistra, intorno fino a che, ti trovi la patrona, che vuoi. Giri a destra e poi a sinistra, intorno fino a che, ti trovi la patrona, che vuoi. Giri a destra e poi a sinistra, intorno fino a che, ti trovi la patrona, che vuoi. Giri a destra e poi a sinistra, intorno fino a che, ti trovi la patrona, che vuoi. Giri a destra e poi a sinistra, intorno fino a che, ti trovi la patrona, che vuoi.